Tra qualche istante saremo in collegamento con il nostro primo ospite di oggi. Maria Pia, intanto davvero stanno arrivando numerosissime le vostre cartoline digitali. Sono andato a recuperarle dalla nostra cassetta di poste in regia. Partiamo con un saluto che ci arriva da Concetta. L'augurio di una buona giornata, di un buon inizio di settimana direttamente dallo stretto di Messina. E poi il nostro caro Roberto da Torino. Anche lui ci augura una felice e serena settimana, quella che ci porterà al Natale. Grazie Roberto che ci segui sempre. E uno scatto che ci arriva anche da San Giovanni Rotondo. Manca la firma di chi ce lo manda, ma raffigura anche questo, un presepe vivente. In questi giorni a San Giovanni c'è, come in tantissime altre città d'Italia, la raffigurazione del presepe anche con personaggi reali. E poi da Lina all'interno della cappella di San Michele Arcangelo. Siamo a Fonte di Rocca d'Aspide, provincia di Salerno. Grazie Lina. E poi un buongiorno da Antonella da Chiaramonte Gulfi, col suo albero di Natale. Grazie Antonella che ci segui sempre. Sì, anche per lei l'oro è stato l'elemento chiave, un po' come il nostro. Un po' come il nostro, è vero. Un altro albero di Natale, questa volta è un albero di piazza, realizzato dall'Associazione Young Bombing di Augusta. Siamo in provincia di Siracusa, è un albero tutto fatto ad uncinetto. Pensa un po', Maria Pia, veramente caratteristico. E ringraziamo Francesca per avercelo inviato. Complimenti anche per l'idea dei bambini che fanno il giro tondo intorno. È vero, molto bello, molto bello. Adesso andiamo a vedere se il nostro collegamento è pronto, mentre la regia giustamente va a riprendere, a cogliere alcuni particolari del nostro presepe, del nostro albero in studio. Io vi chiedo, cara regia, se il nostro Michele De Virgilio, primo ospite di oggi, è pronto. Siccome lo avremo tra qualche attimo, intanto voglio ricordare appunto quello che ha detto Papa Francesco agli artisti, ricevendoli prima che ci sia poi il tradizionale concerto in Vaticano, all'Auditorium Conciliazione. Il messaggio di Gesù, dice il Papa, è antico e sempre nuovo e unico, ma può essere trasmesso con originalità e quindi con stili diversi a partire da culture e lingue diverse. Un messaggio quindi contro l'omologazione. Più si è originale e più si rispetta il racconto anche antico della fede e di questo meraviglioso innestarsi di Dio nella nostra storia e meglio è. Ma nel frattempo Michele De Virgilio dovrebbe essere già pronto. Buongiorno. Lo vediamo, lo vediamo nel nostro maxischermo. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie ragazzi, sto cercando di mettere un po' di luce perché oggi la luce fa fatica a entrare in questa casa. Noi ti vediamo, ti vediamo bene, ti vediamo bene. L'importante è che non la tieni alle spalle perché altrimenti non ti illuminerebbe. Io ne approfitto intanto per dire che il 2023 del teatro comunale Lucio Dalla di Manfredonia si concluderà con la prosa e con una produzione legata alla Capitanata proprio appunto con il tuo spettacolo. Mercoledì 20 dicembre, terzo appuntamento di Futura, la rassegna di cui abbiamo già fatto cenno qualche giorno fa, organizzata dal comune di Manfredonia e dal teatro pubblico pugliese e da Bottega degli Apocrifi. Un'anteprima assoluta per il tuo spettacolo, Caffoni, un racconto musicale. Sì, è uno spettacolo che prende ispirazione da una storia realmente accaduta ad Ortanova, dove un'anziana abbracciante un giorno deviando assoluto percorso fra i piedi del cimitero dove vai sulla tomba del marito tutti i giorni, il suo sguardo cade su una croce bianca su cui qualcuno aveva scritto sconosciuto, nient'altro. Incuriosita va dal custo del cimitero e scopre che sotto quella tomba era stato sepolto un ragazzo straniero trovato morto per strada e pian piano col passare dei giorni l'anziana abbracciante decide di adottare questa tomba. Come lo scoprirete durante lo spettacolo? Uno spettacolo molto allegro, simpatico, divertente che lascia pensare. Uno spettacolo a cui sto lavorando da circa due anni sul testo e che ho avuto la fortuna di essere, che viene prodotto da Avuletec, una piccola produzione, giovane produzione foggiana con cui sono molto contento di lavorare e con cui spero portare avanti questo spettacolo per varie tappe, vari posti. Ecco Michele, diciamo che c'è anche la collaborazione al testo di Mario De Vivo, se non erro, ma volevo chiederti, visto che il tuo volto è stranoto, la tua carriera molto lunga e spero sia altrettanto davanti a te, non solo alle tue spalle, cosa significa mettersi a scrivere? Ti sei riuscito, come dire, a spogliare dei tuoi, giustamente, asset di attore? Significa mettersi al servizio del pubblico, significa raccontare una storia nel modo più chiaro possibile, senza troppi fronzoli, cercando di arrivare al nocciolo. Una cosa che mi piace molto è raccontare delle storie tristi, delle storie su cui riflettere in maniera in chiave di commedia, in maniera leggera, allegra, senza appesantire troppo il racconto, che già di per sé è molto denso, diciamo, impegnativo. Significa stare mesi e mesi a casa in pijama, a riflettere sulla singola parola, insieme a Mario siamo due maniaci in questo, e poi alla fine portare il testo in scena sarà la prova dell'oro. Ebbene, è bello questo lavoro, questo esercizio quasi di lì, ma quando si scrive si cerca sempre di arrivare, come dicevi proprio tu, nel modo migliore al nostro pubblico. Anche interessante la scelta di trattare temi così importanti in una chiave, come cito le tue stesse parole, in una chiave più leggera, che magari può veicolare meglio il messaggio importante sotteso. Sì, quando andavo a scuola, io ho frequentato il Teatro Stabile di Genova, la prima cosa che mi dicevano sempre, c'era un insegnante, la Messeri, che mi diceva, ci vuole sempre un motivo per non sorridere, Michele. E ho fatto mio questo detto e ho cercato di metterlo in atto in qualsiasi cosa che faccio. Un bel paridosso, in effetti. E dopo l'esperienza anche di Tonino a testa in giù, in cui il cuore del racconto è ancora più drammatico, perché è molto tragico, anzi si parla della tragedia appunto di Vialegiotto a Foggia. Hai voluto tener conto magari di chi ha rivolto a te anche delle critiche per questo improvviso, come dire, squarcio di realtà o le critiche sono state tutte positive? Guarda, per Tonino a testa in giù, allora, innanzitutto andare a teatro, diciamocelo chiaramente, è faticosissimo. Portare dei testi in teatro è veramente molto faticoso. Per cui quando decido di portare qualcosa in scena, per me devo essere spinto, devo avere un motivo in più per portare qualcosa in scena. E il teatro civile in questo caso mi dà una grossa mano, sia da ispirazione che anche mi sento come un cantastorie di un territorio che non ha cantastorie in questo momento. E quindi per il caso del crollo di Vialegiotto, quando l'ho fatto circa dieci anni fa, alla fine c'era molta titubanza nei confronti di questo testo e di questa operazione. Però poi i parenti delle vittime che sono venuti a vederlo sono ritornati e mi chiedono tutt'ora su Facebook, su Instagram di riportare in scena questo spettacolo. Quello spettacolo cadeva circa nel decennale della commemorazione e quell'evento, quell'accadimento correva il rischio di cadere nel dimenticatoio. Così invece grazie a quel piccolo spettacolo fatto al Teatro dei Limoni, che poi ho portato a Parigi, a Foggia, insomma e che continua ogni tanto a portare in giro per l'Italia, ha riacceso i riflettori su una storia su cui riflettere. Poi grazie a quello le commemorazioni sono cominciate ad essere più frequenti. Insomma ha dato una scossa, una bella scossa al territorio. In parte hai già risposto alla domanda con la quale poi ci avviamo anche ai saluti conclusivi Michele di questa intervista. Ecco, perché bisogna andare a teatro? Guarda, è una delle esperienze più belle. Io ho cominciato a fare questo mestiere guardando uno spettacolo di Mariangelo Melato, Anna dei Miracoli, dove c'era un mimo, cioè un ragazzo che passava in scena e faceva una camminata particolarissima, strana, è Graziano Piazza. Penso che poi dopo vent'anni ho lavorato con questo ragazzo che mi era diventato un signore. Ed è un modo per coccolarsi, dimenticare, stare in una storia al cento per cento, a differenza del cinema, tu al teatro respiri con l'attore, vivi con l'attore e sei dentro la storia in maniera migliore. Poi c'è sempre quello che io chiamo il fattore K, il rischio dell'errore che rende ancora più interessante la messa in scena. Ogni tanto spesso mi capita di andare al teatro e di sperare che qualcosa si sbagli, che qualcuno si sbagli per vedere quello che accade in quel momento. In tv si dice il bello della diretta, no? Anche, ma ci colpisce la coincidenza. Oggi la nostra rubrica dedicata al Santo è proprio dedicata a San Graziano. Puoi fare gli auguri al tuo ispiratore. Oggi è il suono mastico. molto bene. Piccoli segni che contano, credo, anche nella vita di un attore. E quanti no hai detto per arrivare a questo teatro civile così bello e davvero così dedicato anche a tanti che altrimenti sono dimenticati? Quanti no in che senso? Se hai dovuto rinunciare a qualcosa? Certo, è certo, è certo. Quando arrivi, Edoardo De Filippo diceva sempre che arrivati a una certa età bisogna lavorare di meno e guadagnare di più. Ecco, in questo caso io cerco di lavorare di meno, ma di lavorare sempre sulle cose che mi piacciono, perché se no diventa un lavoro sterile, un lavoro come gli altri. Certo, ogni tanto capita quella che in gergo noi chiamiamo Marchetta. Però in questo caso mi sono veramente concentrato su questo spettacolo che vi assicuro è veramente bello. Non pensavo mi uscisse così bene. Ecco, insomma, andiamoci chiaramente. E' uno di quei piccoli miracoli che... Venite a Manfredonia, venite a vederlo voi stessi, così giudicherete voi e parliamone, scrivetemi oppure vi aspetto nei camerini per i vostri commenti. Certo, sarà bello rincontrarti. Bene, l'appuntamento è quindi per mercoledì. Mercoledì al teatro a Manfredonia, la prima e debluttiamo lì. E che Dio ce la mandi buono, come si dice. Sarà sicuramente così. Michele, è stato veramente un piacere fare due chiacchiere con te stamattina. Noi replichiamo l'invito a recarci al teatro in generale, in particolare mercoledì 20 al teatro Lucio Dalla di Manfredonia per questa prima assoluta, lo spettacolo appunto di Michele De Virgilio, Cafoni. Cafoni, permettetemi di ricordare gli altri attori, Simone Nenigro, Stefano Corsi, i musicisti Antonio Cicoria, Giovanni Mastrangelo, Aurora Corcio, Aldo Bux alle luci, Andrea Pontone a effetti sound, FSX e Cristianizzi sulla scena. Inoltre Marianna Bo ci dà un amato in tutto. E l'autore delle musiche è anche Nicola Scagliozzi, non lo dimentichiamo, l'autore delle musiche. Tu sei stato bravissimo Michele, ma noi abbiamo Maria Pia che è un sigillo di garanzia, allora tu ti dimentichi qualcosa, bam, arrivo a lei. Maria Pia deluderti, Nicola Scagliozzi. Ah, era citato nel tuo comunicato, vedi, quando si vuole essere troppo precisi. Questo è il bello della diretta. Molto bene Michele, grazie ancora, buon proseguimento di giornata e buon lavoro per le ore appunto che ti aspettano in attesa, che si apre il sipario. Grazie, buon Natale a voi e a tutti i vostri teri spettatori. Presto. Alla prossima.